musica 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 mi fa la intro? mi aiuti tu? musica buon viaggio a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul canale di Federico Marconi e oggi andremo a fare una sfida epica con una penitenza epica ancora di più devo fare finta che una cosa ancora più grande bravi a tutti ragazzi siamo qua per fare una sfida davvero eccezionale incredibile dove chi perderà sarà costretto a morire in piscina quindi signori bentornati sul mio canale bentornati come aveva detto lui tra l'altro allora cosa succederà oggi? che qualcuno vince qualcuno perde pensate raramente vabbè bando alle cianci faremo una partita con squadre casuali prendi il quadrato della serie A Udinese Palermo praticamente chi perde andrà nella sua piscina e ci si tufferà cioè noi stiamo aprile fa un freddo della madonna vedete lì solo ripresse veloce ecco vado invece veloce per controllare la palla GILA BOMBER DI VERDINO CAMPIONE DEL MONDO CAMPIONE DEL MONDO CAMPIONE DEL MONDO CAMPIONE DEL MONDO ok adesso mi canto 12 secondi dopo attenti attenti mamma mia GILA SCATTENATO GILORDINO ventiki daken la finta di Gila che poi appoggia piano piano con il sinistro ma questo è un mail goal mamma mia Gila quanto è forte ma quanto è triste lui brutto errore eh infatti è lentissimo però è partito ero dentro per Badu Badu cerca spazio e ricostituisce a Tero TERO! E andiamo che la riapre SIRIL TERO! L'ho guffata io! che Udinese fino a 2 minuti fa Udinese di merda partita brutta GULIERM con tutto il cuore ragazzi è partito GULIERM GULIERM è nello spazio oddio GULIERM GULIERM FARIVATERO! no se segnale si svegliavi un attimo va che è partito ballo centralmente bella palla per GULIERM che può calciare nooo è un troll no dai ma che controllo è quest'altro no no gira no dai siete tristi bello ho capito perchè lottateva le due sessioni perfetto barri grazie che cazzo ha fatto? era una tattica per farmi dare balle aspettavi basket pinca basket ma io devo giocare pure contro i miei giocatori fai la finta ah io sto giocando con duvanzapata poi dici perdi però bella sta palla per Fernandez Fernandez al centro per te nooo ok dove hai sta qua? no questa mi sembra che è quella di prima di balla che è caduta ah è arrivata quella di prima l'ho vista passata qua fuori quella di ro allaoli e benji Porte Fernandez uh Sorrentino non fare brutti scherzi mamma mia ragazzi che uchinese in un momento eh subito balla dentro per te lo te lo può calciare bello mmmm si è sforzato per te lo tiravo vabbè sono ventino è il capitano ah perchè quindi cioè non ho capito il nesso logico te lo vedo ma se l'importante è partecipare da un petto vedi Nilsson che fa quello? vedi Nilsson no vedi Nilsson al centro FERNANDEZ 2 a 2 ho capito che devo fare infatti non hai quello della merda che sta al centro e poi anche fosse 2 a 2 con le unghie e con i denti Badu Badu si appoggia Fernandez per Badu Badu l'ha presa poi Fernandez questa battaglia ha passato Badu qualcosa al futuro? fuori gioco spero fuori gioco dai Vazquez corri Vazquez è che questo non sa proteggere Bada infatti ho notato quanto è scarso ancora in gioco dentro gira gira la tripletta dategli un pallone che se la porta a casa dategli un pallone che se la porta a casa questo mi sembra il gira del 2006 spettacolo questo giocatore no mamma mia quanta esperienza quanta qualità quanta classe quanti gol no 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 non è vero tela passala però passala finisce qua è bene come è fuori finisce nella sua piscina tanta roba girardino spettacolo ok ragazzi eccoci ci stiamo dirigendo verso la piscina non ci lancio niente nelle tasche perchè non è fredda? buttati l'acqua è fredda ma ti devi buttare no buttati no così dai un bel tuffo 500 mi piace raga è salita la proposta 500 mi piace dai buttati no no ti butti adesso ah 500 mi piace però eh 500 mi piace si se non ce ne sono 500 ti asciughi eh? se non ce ne sono 500 puoi asciugarti allora signori per 500 mi piace passate dal bale di bella fifa e da quello di snoopy vai 3 2 1 parca no no emozioni a freddo emozioni a freddo sto fredde cazzo emozioni a freddo emozioni a freddo emozioni a freddo mi verrebbe da invocare qualcuno la sopra ma non si può fare anzi emozioni a freddo emozioni a freddo come metto al sole aspetta snoopy vieni tocca a te tocca a te anche tu hai perso snoopy vieni vieni ahhh si subito tutto bagnato allora siamo arrivati alla fine di questo video porca miseria 500 mi piace ragazzi che li ragioniamo solo per la carriera per questa volta sono doverosi quindi per un prossimo video con bella fifa che uscirà tranquilli passate dal suo canale trovi in descrizione detto questo ragazzi vi è solito lasciare un bel pollice in su un commentino iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto buona freddo a tutti e al prossimo video buona che dire è un momento storico comunque entrare nella piscina per la prima volta è stato emozionante e quindi sono anche un po' ho sudato perchè ero emozionato però sei asciutto si erano cricci sono diventati leggings però vabbè ciao a tutti ciao la buona sicurezza l'alli alli 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 Grazie a tutti.